Mino Pecorelli, giornalista originario di Sessano del Molise, faceva bene il suo mestiere. Le inchieste condotte dal fondatore di OP erano delle vere e proprie bombe. Di certo le sue fonti erano rilevanti. Fu proprio lui, ad esempio, a pubblicare alcuni documenti inediti sul sequestro Moro. Ma non solo. Quasi tutte le vicende più scottanti di quel periodo furono trattate dalla sua rivista. Alcuni articoli erano vere e proprie profezie, come quella della sua morte, avvenuta in circostanze mai chiarite, finite al centro di un processo a Perugia. Alla fine la Cassazione ha assolto tutti, ma con il libro Il Divo e il giornalista, presentato a Isernia, Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno, hanno voluto tenere alta l'attenzione su questa vicenda. Il processo, come ha riconosciuto la Cassazione, ha indagato nella pista giusta, cioè il processo è entrato in quel groviglio di affari riservati che hanno portato all'omicidio di Mino Pecorelli. Probabilmente è lo stesso groviglio di affari e di interessi di Stato che hanno portato alla morte di Aldo Moro. Nonostante le assoluzioni, la figura del giornalista di Sessà non è uscita rafforzata dal processo. Qualcuno in sede giudiziaria lo ha definito un ricattatore professionista, ma questa tesi è stata bocciata. Pecorelli si indebitava pur di mandare avanti il suo giornale. Una persona che ha fatto il lavoro da giornalista, non era vero che era uno che era scomodo, aveva informazioni vere, tanto è vero che è molto per quello che aveva pubblicato e che poteva pubblicare. Rosita Pecorelli ha lottato e continua a lottare affinché la verità sull'assassinio del fratello venga a galla. Sull'omicidio ha le idee molto chiare. La condanna era veramente giusta, è stata la soluzione ingiusta. Il mistero della morte di Mino rimarrà fino a che non succederà qualcosa di veramente nuovo ma grande. Qualcosa mi pare che si sta muovendo perché da un po' di tempo ne parlano molto. Lo seguivano da parecchio e sappiamo anche chi. Quelli della banda della Magliana erano stati delegati da Vitalone. A margine dell'incontro è emerso anche il legame profondo tra Mino Pecorelli e la sua terra d'origine. Molto forte. Quel giorno, proprio il giorno della sua morte, mi disse se il giornale si rialza entro un paio d'anni io me ne vado a vivere a Sessano, a casa mia.